salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ho aspettato più che ho potuto ma ragazzi non piove da quando ho preso il power e x ha smesso di piovere praticamente prima pioveva sempre adesso non piove più o l'unico drone che è in grado di volare quando piove ma non piove più ma visto che una delle ultime prove che mi resta da fare è la sua impermeabilità sotto la pioggia in attesa che arrivi la pioggia vera oggi simuleremo una pioggia finta quindi metteremo il power e x in overing più o meno a questa altezza poi andrò in piedi sulla scala e con la canna dell'acqua con la pistola che fa un diciamo un effetto pioggia chiamiamolo così a spruzzo bagneremo il power x e vedremo come si comporta dal punto di vista della stabilità se resiste all'acqua perché tanti mi hanno chiesto ma i motori non si bagnano non succede niente ai motori che non hanno protezioni e via dicendo quindi cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande e vedremo anche il comportamento del case appunto con l'acqua che gli scorre sopra e come riprenderà lui stando fermo in overing ovviamente non è un volo perché non posso correre di dietro con la canna però inizieremo ad avere un'idea del suo comportamento sotto la pioggia o meglio sotto una finta pioggia poi quando arriverà quella vera allora faremo un bel video sotto la pioggia quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e mettiamo il power e x sotto un bel acquazzone ok ragazzi il power e x è qua in overing c'è anche il vento lo spesso che lo sentiate dal microfono penso che lo vediate anche dal diciamo dalla sieppe qua dietro che si muove c'è un bel vento quindi la simulazione ancora più reale dal punto di vista acqua vento quindi una condizione atmosferica ideale per un test di questo tipo perché quando si vola con la pioggia magari c'è proprio un bel maltempo infatti vedete come fa fatica a stare in overing perché comunque abbiamo solo nuovi satelliti perché c'è la casa che lo copre quindi non ha tutti i satelliti disponibili e comunque il vento è bello fortino è quindi queste due cose insieme il vento più la mancanza di satelliti gli danno un overing non perfettissimo ma per me comunque giusto per fare questo test quindi ragazzi adesso annaffiamo ok ragazzi sto salendo sulla scala spero di non ammazzarmi anche perché il terreno abbastanza instabile e possiamo andare di annaffiamento guardate ragazzi figata pazzesca cioè sta piovendo come se non c'è un domani è anzi sto sbagliando anche l'osmo pocket che è dietro che sta riprendendo sul cavalletto sto bagnando anche lui perché il vento gli fa andare l'acqua addosso speriamo che non succeda niente all'osmo pocket più che al drone che è sicuramente impermeabile cioè guardate ragazzi fantastico devo dire che è fantastico e di acqua ne sto facendo scendere tanta è fantastico direi che il test è superato a pieno perché guardate quant'acqua gli sto facendo venire giù non so se dal dalla camera o dall'osmo pocket si vede ma tantissima quindi direi ragazzi test è superato a pieni voti bravo power x spettacolare ragazzi spettacolare il sogno di una vita avere un drone che può andare quando piove cioè veramente bellissimo bellissimo quindi spostiamo la scala facciamo riatterrare il power x facciamo un atterraggio automatico perfetto quindi ragazzi cosa dire fantastico cioè guardate quant'acqua che viene giù ancora cioè avere un drone che è in grado di volare quando piove secondo me è fantastico uno perché quando piove per tanto tempo ci dà la possibilità di volare non diciamo tenere un drone fermo in casa e diciamo da sfogo alla nostra voglia di far volare un drone uno e due secondo me ci dà la possibilità di fare riprese video uniche nel senso che anche a livello di colori proprio a livello di atmosfera volare quando piove secondo me in certe situazioni tanta tanta roba in più avete visto che c'era anche il vento quindi ho cercato di ricreare sia a livello di quantità di acqua che di vento che per fortuna c'era secondo me perché almeno ha ricreato un po' la situazione di quando piove perché spesso quando piove magari c'è vento comunque è brutto tempo e poi ragazzi è una cosa che volevo farvi vedere è questa andando ad immaginare che il chiesi si sarebbe appannato perché comunque l'acqua fredda fuori perché comunque inverno l'acqua gelata il drone che comunque emana calore ho presupposto che il vetro qua davanti che copre la telecamera si sarebbe appannato quindi avrebbe creato un appannamento e quindi le riprese non avrebbero dato l'effetto desiderato anche quando quello si va a utilizzare sotto la pioggia secondo me c'è questa possibilità soprattutto in questa stagione ma magari succede anche d'estate quindi onde evitare questo ho comprato questo prodotto quello che si usa per le maschere da sub della Cressi praticamente una marca che è molto conosciuta nell'ambito subacqueo e si chiama appunto anti fog quindi un anti appannamento si usa per le maschere subacquee come vi dicevo si spruzza sia all'interno che all'esterno si pulisce con uno straccetto e appunto questa diciamo chiamiamola lente che poi tipo quella delle lenti da subacqueo per intenderci non si andrà ad appannare infatti non si è appannata mentre qua da parte vedete dove non l'ho spruzzato è praticamente la parte dove non interessa che si appanni perché comunque la telecamera non arriva in questa zona non l'ho spruzzato e si è appannato mentre la parte della telecamera se vedete adesso vi faccio vedere bene non si è appannato praticamente niente quindi con tipo 5 euro si va a evitare anche questo problema anche perché un flacone così fa più di diciamo 100 utilizzi quindi voglio dire hai voglia a fare 100 voli sotto l'acqua perché non è che tutti i voli uno li fa sotto l'acqua quindi cosa dire questa è stata la mia soluzione ed ha funzionato benissimo quindi ragazzi direi che questo power ix da questo punto di vista tanta roba anzi secondo me tanta roba da tutti i punti di vista perché non ha deluso praticamente in niente in tutto quello che gli ho fatto fare adesso è arrivato il momento di portarlo con me a fare un po di cinematic video perché comunque l'avete visto sì dal punto di vista della camera sul lago di civate dove ho fatto la prova dell'atterraggio in acqua però secondo me adesso è proprio da portare in giro e fargli fare qualche belle cinematic video e soprattutto di aspettare che venga finalmente a piovere non ho mai desiderato che venisse a piovere come in questo momento o meglio come in questo periodo da quando c'ho questo fantastico power ix waterproof quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale questa prova artificiale di pioggia del power ix in versione waterproof sotto la pioggia vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube non perdevi neanche un video un volo recensione in testo un tutorial una novità ciao grazie a tutti